e fantastico fantastico che meraviglia ritornare nelle vostre pupille gustative da francesco errante ma soprattutto da luca chito da tele europa network e da tutti quanti coloro i quali e le quali ci consegnano la possibilità di stare con voi di poter essere partecipi di questo nuovo inizio settimana dopo una fine settimana abbastanza combattuta fra le tante cose che avevamo nella nostra che dico fare tra dove stipiamo tutte le frecce da consumare quando è opportuno consumarle ecco durante la fine settimana si sparano tanti dardi tante frecce ecco all'indirizzo della rilassatezza del convivio tutto questo insomma ci consegna anche la possibilità di essere rivoluzionari questa rivoluzione che ci ostiniamo a pensarla oramai con forme nuove che esulino dagli asfittici utilizzi di muscoli cervelli pensieri filosofici e quant'altro oramai la rivoluzione si snoda e si sviluppa grazie ai social e grazie ai social network dove compaiono e scompaiono tweet piuttosto che messa post ecco tweet e post queste sono le due post e telecomunicazione diciamo che poi uno riesce a telecomunicare fra l'altro luca notavo notavo e te lo dico con grande gioia e trasporto affettuoso che questa poltrona inizia a starmi un pochino stretta e fra l'altro è anche desueta e fuori moda credo che la poltrona ultimamente stia per lasciare il passo il posto la presenza al trono al trono è vero siamo tutti un po' scondronati che ci rifacciamo ovviamente agli effetti di scuotimento di confusione che il tuono produce in tutti quanti quelli che in un certo qual modo ne assorbono tutta quanta la violenza acustica ecco perché prima arriva il fulmine che viaggia alla velocità della luce e poi nascono insieme sono due cose che nascono insieme il fulmine e il tuono soltanto che il fulmine viaggia alla velocità della luce il tuono alla velocità del suono ecco non non il non alla velocità del tuono o se preferite alla velocità del tuono che coincide con la velocità del suono per cui c'è un lieve ritardo prima t'allamba allambami e ognuno può decidere in piena autonomia dove farsi allampare io romantico come sono ogni volta che vedo la luce di allambami in guaggio che significa proietta tutta quanta la tua luce su di me ecco addosso in guaggio addosso e quindi dicevo Luca dobbiamo orientarci in qualche modo a trovare qualche fornitore di trono di modo che ci sentiamo angionati non solo ed unicamente per l'effetto del tuono acusticamente parlando ma proprio l'uomo solo al comando l'uomo che governa che tranquillizza tutti quanti che ci manda a letto con quella calma serafica con quella calma serafica e certosina che ben si confà alla preparazione poi per una bella dormuta e noi in calabria facciamo delle dormite assoluta ancora stiamo dormendo per favore non svegliateci perché vogliamo vivere fino in fondo questo sogno continuare ad incavolarci per non dire incazzarci con gli amministratori locali nazionali con il governo mondiale con questo governo che in qualche modo sovraintende a tutte quante le azioni degli esseri umani dell'intero globo terraqueo e quindi c'è questo accordo di poteri forti fortissimi e invece dimentichiamo quanto noi ci siamo indeboliti per cui ci sembra strano che il potere difenda se stesso che la gestione la supremazia dei superiori valutati superiori da ognuno di noi continua ad affrancare la sua egemonia e questo ci preoccupa un po' e scriviamo scriviamo twittiamo postiamo i giovani utilizzano altre tipologie di comunicazione e questi giovani che in qualche modo sono privati di modelli capaci di creare entusiasmo emulazione proiezione al futuro e ci sono invece tanti modellini che vengono utilizzati però a modello non da tutti quanti ovvio i componenti delle nuove e future generazioni ma dalla grossa parte da una gran parte di giovani si inquadrano e si vedono in modellini modellini che qualche ventennio fa non avrebbero avuto modo di avere presenza e visibilità così come invece oggi accade faremo anche i nomi ma io questa apertura la volevo dedicare alla nostra incapacità in quanto calabresi in quanto italiani di ritrovare cervello idee filosofia muscoli capaci di poter effettivamente creare una svolta nel paese ne siamo attagnati cioè accontentati di quanto espresso dal referendum fra l'altro una magnifica azione quella di Matteo Renzi che certamente non si può dire ingenuo ma uno molto molto intelligente molto scaltro capace di utilizzare i media per come i media vanno utilizzati e lo dico nel bene e nel male perché poi spetta a ciascuno di noi dare una valutazione di come i mezzi di comunicazione di massa possono essere ben utilizzati o malamente utilizzati o meglio ben utilizzati a fine di bene o a fine egoistico e quindi di male perché quando il media mette da parte la massa rimane solo a media per cui l'invidia sapete che è un sentimento assolutamente deleterio che si contrappone all'ammirazione ma questo l'ho espresso già più volte come pensiero assoluto del mio essere minuscolo e del mio propormi alla vostra accoglienza detto questo c'è chi vive situazioni non belle non positive nella nostra bella regione di Pecorina da un pezzo e allora ci colleghiamo subito con un ex de gente perché è ritornato a casa col nostro amico Boccarsa col quale attiviamo subito il nostro contatto grazie a Luca Aghito signor Boccarsa ehi come va bentornato bentornato al nostro appuntamento giornatacce una del diseguito a dell'altra a chi lo dice una che una che si convicca nell'altra e crea uno spessore uno spessore di varicante che mi sta allogorando mi credevo di poter ritornare presto all'ospedale in civile della mucchiata e poi e poi che è successo poi non è stato possibile dammi tempo che ti gruppo ha detto il topo alla noce e poi non hanno aperto le sale operatoie perché c'era un pochino di fastidio di tutti quelli che erano lì che dici che la raccolta del vetro la inseguono la domenica mattina e quando svuotano i contenitori dove ci sono tutte le bottiglie di dentro si sente un rumore che sembrano le campanelle della slitta di Babbo Natale che è venuta in anticipo qua pecorino da un pezzo dove è tutto provvisorio alberi provvisorie illuminazione provvisorie meno male che hanno fatto un albero rappresentativo di tutta quella che è la nostra pecorinità di noi che stiamo a pecorino dei culaponte dei nostri culapontis perché hanno fatto un albero che davanti alle palle e dietro alle luci è bellissimo maschilista un pochino è davanti alle palle tu come mi trovi dico la verità non benissimo è proprio un aspetto non di gran forma signor Boccaccio diciamo che me la cavicchio me la cavicchio diciamo che se la cavicchia apparentemente se la cavicchia per fortuna c'è il fatto che me lo appoggia quello di sotto pure me lo appoggi o meglio me lo vorrebbe appoggiare ma io ci ho detto vedremo adesso uno per volta perché mi avete preso per l'apo alcana io adesso è la volta del fatto che me lo sta appoggiando poi vediamo tra l'altro pure il sindaco mi dice pure il sindaco mi dice forse me lo appoggia eh vediamo è una speranza è una speranza una settimana quella che è una settimana atroce atroce eh eh sono successe tante cose fra l'altro il nuovo governo ecco accettato con riserva ma tu lo sai che ho passato io quando posso voleva dare l'ingarica a cosa per rifare cosa eh tu non te la cosa tu non te la puoi immaginare cosa nonostante il mio era un atteggiamento compito proprio di quelli che non si lasciano prendere la mano con tutto il braccio dalla pancia che reagisce ma quando ho sentito no eh su che ha sentito solo ci pensare che li volevano dare l'ingarico esplorativo poi vediamo come sciurta a romano brodi mi sono sentito è vera questa cosa è vera mi sono bestemmiato tutto quello che mi potevo bestemmiare mi gli ho bestemmiato tutto quello che gli volevano bestemmiare adesso però qua non c'è come all'ospedale civile della mucchiata non c'è come lo schiacciare oggi capito non c'è come non c'è non c'è lo schiacciare oggi non c'è il confessore non lo schiacciare oggi non c'è il confessore e quindi mi addormenterò con questo peccato d'ira che ho avuto perché ho iniziato veramente mi sono buttato dal letto non ho preso le medicine la capisco anche se me ne è rimasta una pinnola guarda poi per fortuna per fortuna per fortuna tutto si è calmato tutto meno male signor boccato svenimento svenimento è svenuto è svenuto è tranquillizziamo i parenti di boccarsi è svenuto sarà dura a morire perché i deboli sofferenti non muoiono mai cioè muoiono ma si riproducono a differenza di un potere che altrettanto non muore mai e che rimane sempre uguale a se stesso ecco la differenza tra la disperazione e i disperati quindi che incarnano un pochino il disagio nazionale mondiale è che mentre i potenti riproducono se stessi con grande capacità di ringiovanimento cioè non non escono mai di scena rimangono sempre belli presenti e i disperati invece proprio assoggettati a tutte quante le insidie e le usure che è una vita disperata impone muoiono però poi ci sono altri disperati che arrivano pronti a supplirli a prenderne il posto a caricarsi di oneri perché la disperazione e disperati non godono di onori non vengono quasi mai riconosciuti come il fondamento le fondazioni su cui il potere poggia e insiste questa è una considerazione minuscola ma considerazione è e noi io sono assolutamente convinto che dopo gendiloni e che gendiloni arriverà magari un che so hanno superato hanno superato gendile e noi abbiamo gendile quelle gendiloni ma subito caga un papinuzzo e tonino ta 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 gendilissimi gendilissime perché non non ci batte nessuno in termini di superlativi assoluti pur di essere presenti laddove è necessario si sia presente è ritornato gentiloni quindi vedete come non passa mai quando si era ventilata l'ipotesi di romano prodi abbiamo sgrizzato non poco tutti quanti abbiamo avuto come un senso di paura di terrore oserei dire più che repulsione no perché poi non vogliamo scadere nella considerazione dell'umano ma sul sulla grande gestione di romano prodi di chi l'ha preceduto e di chi poi lo ha seguito avremmo veramente tante cose da dire c'è stato qualche sprazzo qua e là ma poi tutto quanto il resto è stato un mercanteggiare un vendere questa magnifica terra che è l'italia la nostra magnifica repubblica fondata sul lavoro sulla libertà di pensiero sulla libertà d'espressione cose che piano piano abbiamo perso drammaticamente abbiamo perso drammaticamente abbiamo ceduto il passo ad atteggiamenti sempre più egoistici sempre più chiusi verso noi stessi le classiche masturbazioni intellettuali quelle che non ti producono contatto che ti fanno creare il mondo che vuoi a misura tua però poi non avendo a disposizione ecco l'intelletto evoluto dallo studio dall'apprendimento dal confronto ci siamo visti nella precaria situazione per chiedere aiuto ai nostri amministratori ecco che allora vi sto raccontando una fiaba una bella magnifica fiaba quella che è la nostra realtà prima c'era il politico c'era l'amministratore che amministrava poi a un certo punto che a seguito delle nostre reiterate richieste per i nostri figli per noi stessi abbiamo fatto in modo che queste amministrazioni questi politici diventassero anche uffici di collocamento cioè collocavano le persone che a noi stavano a cuore laddove c'era la possibilità di collocarli quindi sono scomparsi dalla scena i concorsi per esempio per titoli esami e titoli sono scomparse tutte le forme di meritocrazia e di questo però non dobbiamo dimenticarci quando siamo responsabili ogni volta che abbiamo chiesto ogni volta che abbiamo implorato ogni volta che abbiamo agognato l'ausilio l'aiuto la tutela la patrinità cioè abbiamo richiesto l'intervento del padrino di turno o se preferite del padrino di turno abbiamo aumentato accresciuto questa capacità e loro giustamente se tutti quanti ti chiamano santo santo qua santo là santo giù santo su hanno immaginato realmente di essere dei santi e di potere tutto e quindi sono sostituiti agli uffici di collocamento in calabria si sono create file infinite davanti alle segreterie politiche chi prometteva più chi prometteva meno la tua capacità non era tanto quella di amministrare quanto la capacità di poter dare posti di lavoro posti di lavoro che non producevano nella stragrande maggioranza dei casi dei benefici alla collettività ma diventavano degli ammortizzatori sociali quindi il lavoro è diventato un ammortizzatore sociale nel senso che la poveria almeno va a una parte almeno fa una cosa nella sua vita è un stato buono né per batte né per bugia allora facciamo sì che possa dedicarsi a qualcosa di redditivo che possa ecco avere un reddito a fine anno e quindi è successo quello che è successo oggi ci accorgiamo tutto ad un tratto che il diavolo è rappresentato dai politici il diavolo è rappresentato dal Matteo Renzi di turno il diavolo è rappresentato da Giorgio Napolitano adesso da Mattarella che pesca su Gentiloni il quale ha primacchito dice aspetta devo prima rendermi conto di qual è la situazione e quindi accetto ma accetto con riserva accetto con riserva Gentiloni ma come faccia tu a rifiutare a rifiutare una cannarotea di questa portata una una come era la traduzione di cannarotea Luca una golosità e che grazie 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 una golosità di questa portata è chiaro che ha accettato rimbasti ma non rimbasti niente perché rimbasti niente perché le trame sono sempre quelle dovevamo intervenire per cambiare la costituzione perché le due camere sono troppo lente farraginose c'è questo ping pong di aggiustamenti c'è questo palleggiare c'è questa infinita possibilità di poter in qualche modo accordarsi trovare l'accordo sotto sotto il banco sotto lo scranno e invece abbiamo visto che l'ultima finanziaria o se preferite legge di stabilità ha impiegato meno di dieci ore per andare dalla camera dal parlamento al senato e dal senato ritornare alla camera ed essere approvata e quindi la dice lunga questa questa nostra chiamatela elucubrazione ma comunque sia questa minuscola dalla sollecitazione alla riflessione perché perché siamo sempre responsabili del nostro quotidiano siamo sempre responsabili di tutto quello che apparentemente sembra lontanissimo da noi io ho visto di tutto anche voi nella vostra esistenza avete visto di tutto è ovviamente quello che manca lo dicevo sono i modelli a cui le nuove generazioni devono ispirarsi modelli che oggi sono costituiti dall'apo el can da fabrizio corona senza nulla togliere alla loro umanità rispettabilissima in quanto esseri umani però esaltare le loro azioni renderle note molte volte in una assoluta assenza di valori importanti reali rischiano di attestarsi come modelli questi modellini diventano modelli a cui i giovani quelli più pigri quelli meno coraggiosi che si fanno sopraffare dalla paura dimenticando che il coraggio è un muscolo che si allena affrontando le paure in generale in particolare le proprie paure dedicandosi totalmente a questo scontro titanico fra le paure che avvertiamo dentro e la nostra capacità di porvi rimedio la resilienza la capacità di resistere agli urti ecco questa è venuta sempre meno grazie ad una vita sempre più agiata grazie a tanti compromessi che abbiamo accettato e oggi ci sembra tutto così inaccettabile ci sembra tutto così incontrovertibile tutto così fermo lì è quello che abbiamo prodotto con la nostra azione anche la televisione di stato vi prego ancora Pippo Baudo ancora Mara Veniera ancora ci sarebbero tanti ancora ancora Magalli Magalli sul quale torneremo torneremo tra un po' l'andrangheta che diventa un modello così come Santoro fa diventare le baby gang portandole al trionfo nelle sale cinematografiche le baby gang della camorra napoletana ecco immaginate voi quanti danni producono quanto gettito di emulazione in una terra come la nostra Italia povera di ricchezze morali e spirituali quante imitazioni producono questi modellini lo so c'è anche la denuncia però bisogna fare attenzione perché quando la denuncia diventa rappresentazione di forza i più deboli possono innamorarsi della forza in quanto tale prodotta dalla violenza dal sorpruso dal non rispetto di tutto quello che è la civiltà vorrebbe invece si rispettasse e quindi Modellini Fals, Pippo Baudo, Giancarlo Magalli e insomma mi sembra veramente una condizione attraverso la quale oltre si possa andare a patto che tutti quanti decidiamo di ritornare al cervello attivo e ai muscoli attivi e alla capacità di affrontare e superare con coraggio tutte quante le nostre paure. A proposito di paure temo di dovermi fermare, ritorno tra poco. a proposito di paure temo di dovermi fermare, ritorno tra poco. a proposito di paure temo di dovermi fermare, ritorno tra poco. a proposito di paure temo di dovermi fermare, ritorno tra poco. a proposito di paure temo di dovermi fermare, ritorno tra poco. a proposito di paure temo di dovermi fermare, ritorno tra poco. a proposito di paure temo di da a proposito di da a proposito di paure temo di dovermi fermare, ritorno tra poco. a proposito di paure temo di dovermi fermare, ritorno tra poco. a proposito di dovermi fermare, ritorno tra poco. a proposito di dovermi fermare, ritorno tra poco. a proposito di dovermi fermare, ritorno tra poco. a proposito, ritorno tra poco. no, ritorno tra poco. mi dispiace ma avevo finito di fare la televisione va bene per fortuna ho votato no quindi non c'è questo rischio e Luca Acheto? anche Luca ha votato no riconfermato pure Luca Acheto di fare il regista di questa bellissima grandissima trasmissione bene grazie commissario grazie commissario a Teglio Sabato a chi ha votato? no a Teglio Sabato proprio no 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 bravi riconfermato pure a Teglio Sabato ma la grande domanda eserale che proprio se non rispondi questo ferale, abbiamo scritto ferale è uguale domanda ferale se non risponde a questa domanda vena una fera Carmela Formoso per chi ha votato? no, ha votato no assolutamente no riconfermate nel ruolo della dea della macchina pure della motocicletta che rimane a suo posto siete tutti quanti riconfermati a fine anno poi diciamo di 2017 in poi vedremo quello che si può fare se vi possiamo fare un co-co-co un kkk ci dobbiamo vedere perché adesso ci cambieranno un pochino tutte le cose tutto cambierà ma non cambierà il super commissario i Giv il giovane Manello che era bello bello grazie commissario lui arriva arriva quando meno te l'aspetti si addentra nella nostra trasmissione un pochino come gli autovelox di un tempo perché sapete sugli autovelox c'è una grande controversia nel senso che l'autovelox non deve essere una trappola per gli automobilisti ma un deterrente e la differenza è sottile nel senso che il deterrente è palese manifesto viene anticipato nella sua presenza tramite opportune esternazioni cartelli luminosi scritti e chi più ne ha ne aggiunga e non una trappola dove poter far economie per l'amministrazione comunale di turno e quindi il nostro commissario in effetti però non è l'autovelox che anticipa la sua presenza ma arriva quando vuole proprio perché il ruolo del commissario è quello di sorprendere nella flagranza del reato non mi confondete la flagranza con la fragranza altrimenti diventa tutto buono come il pane ed è inutile discutere a proposito di tutto buono come il pane un altro elemento che voglio sottoporre alla vostra attenzione è quanto accaduto con Giancarlo Magalli vi dicevo uno di quelli che fanno la televisione non ricordiamo più bene ci mancherebbe altro però ogni tanto uno dovrebbe fermarsi e cedere al post ma ancora non ne vogliono sapere perché l'azienda Rai li spreme come dei limoni senza rendersi conto che c'è tutto un mondo intorno che non è solo il titolo di una gloriosissima canzone di Mattia Bazzarra all'epoca della grande Ruggeri Antonella Ruggeri vediamo il fatto grazie Luca se vi suona il telefono rispondete fanzioso duemila euro se li è pronto è la rovina economica cinque squigli al massimo di dei fatti vostri passa tanto tempo tra uno squigli e l'altro l'ha fatto il signor Antonio di Casignana provincia di Reggio Calabria di Reggio Calabria ci abbiamo provato anche oggi se poi voi andate in giro a scippare vecchia è colpa nostra e questo è il fatto sul quale ovviamente noi abbiamo perso voi diamo giranni i corna nel senso che tradurre questa cosa ci mettiamo sempre e alla ricerca i finucchietti di timbali piccibia di inutili e sterili polemiche ecco su questa affermazione non è colpa mia se a quest'ora quando noi telefoniamo voi andate a scippare le vecchiette la Calabria e soprattutto alcuni media di respiro nazionale sono insorti dice come avete offeso tutti quanti i calabresi i calabresi che ovviamente non pensano più non reagiscono più si sentono difesi da qualcuno a livello nazionale hanno aderito a questa indignazione che poi in effetti non ha motivo di esistere anche se poi Giancarlo Magalli si è fatto protagonista delle scuse e noi le mandiamo in onda il problema è che la cosa originaria che non era riferita a Casignano a niente era solo una frase detta a cavolo come vi pare dicendo vi lamentate che non vi telefoniamo per il gioco e poi quando vi telefoniamo non ci siete a casa ma dove andate a scippare le vecchie che andate a fare questo era una battuta a capitina ma non riferita certamente né a Casignano né alla Calabria né a me se ho mai parlato male della Calabria non avrei nessun motivo e ripeto se la pensassi così l'avrei già fatto chissà quante volte sarebbe scappato non ho nulla contro i meridionali anche perché sono di Roma quindi perché dovrei avercela con i meridionali e vorrei che questa cosa finisse perché sta assumendo dei toni in consulta insomma mi dispiace chiedo scusa se qualcuno si è offeso se qualcuno si è sentito è chiamato in causa io non l'ho chiamato in causa e quindi mi dispiace solo che sia accaduto non mi dispiace di averlo fatto perché io non l'ho fatto detto questo speriamo che si raggiunga questa tranquillità perché insomma ci sono cose più serie a cui pensare non solo nel sud ma in tutta l'Italia grazie un abbraccio e vogliamoci bene e vogliamoci bene noi in qualche modo ho inteso accettare le scuse di Giancarlo Magalli perché mi sembra davvero risibile per non dire ridicolo proprio il fatto di come dici se mai ce ne fosse stato bisogno mi sembra grazie Luca che ogni tanto mi ausili mi soccorri ecco è un un modo di dire l'ha detto lui stesso cretino quando poi sei in una diretta televisiva quello che ti arriva ti arriva qualche volta perché a Magalli va riconosciuta la capacità di essere un grande scrittore di testi radiofonici e televisivi per trasmissione televisive e radiofoniche quindi è inconfutabile la simpatia di Giancarlo Magalli è incontestabile quanto sia quanto sia stato prolifico per Mammarai ovviamente quello che dicevo che ogni tanto pure Magalli dovrebbe fermarsi perché questo per esempio questa caduta di stile chiamiamola così questa scemenza in altri tempi in altri anni avrebbe certamente evitato di dirla in tempo reale perché è stato un campione del ripeto del radio e della televisione avrebbe certamente saltato a pieppari questa insidia che ogni tanto capita di inciampo in noi che conduciamo trasmissione in diretta come accade ogni lunedì dalle 13.30 fin giù alle 14.30 e poi se non sbaglio in replica la sera dalle 20 per altri 45-50 minuti insomma complessivamente per il tempo di durata del nostro minuscolo minuscolo che è arrivato al dodicesimo appuntamento e quindi dobbiamo ringraziare quanti ci consegnano la loro stima simbati il loro affetto la loro cordialità oggi è stata una giornatina nella quale abbiamo tirato un po' le orecchie ho tirato un po' le orecchie a noi che manifestiamo tutta l'indignazione per Magalli che si esprime per come abbiamo sentito nei confronti dei calabresi e invece rimaniamo tranquilli quando il giorno dopo della bocciatura di qualsiasi azione tesa al cambiamento per non dire allo sconvolgimento della Costituzione della Repubblica Italiana nulla è accaduto tranne che qualche tweet e qualche post nulla è accaduto quando è ritornato Gendiloni cioè a dire Matteo Renzi travestito da Gendiloni ci siamo ingoiati tutto quello che Matteo Renzi argutamente astutamente intelligentemente ha scritto e prodotto ci siamo fatti avvolgere da questo ritorno a casa dal fatto che abbia rimboccato le coperte ai propri figli che si sia reso conto di quanto è bella la casa di quanto il Natale che incombe sia un tutt'uno con la famiglia questo ci fa piacere dirlo e ci piacerebbe per esempio porre distinguo fra chi credendo nel Natale nel suo valore si in qualche modo autorizza a poter manifestare gioia in questa ricorrenza in questo memoriale importante qual è il Natale e quanti invece ci si ficcano così arbitrariamente perché della famiglia dell'uomo Dio gliene può fregare de meno come direbbero nella capitale d'Italia e che comunque si insinuano vedete le commistioni il Natale diventa un appuntamento per fare i regali scambiarsi i doni e c'entra nulla perché è vero sono arrivati i doni tramite i tre magi a Gesù bambino ma noi molto spesso confondiamo i magi con i maghi con le magie con il do ut des e quindi Gaspare Melchiorre e Baldassarre diventano Gasparri Marchionne e Baldassarre e Baldassarre rimane sempre lì in Europa scusate scusate ma è questa è pronto? pronto? è le telefonate che arriva pronto? c'è una telefonata scusate il telefono suona quando meno te l'aspetti e quando è e ti arriva la telefonata pronto? 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 ecco qua pronto si ma avete riconosciuto di chi sono io di me che mi stocchiamo in questo momento perfettamente cara la nonna cara signora ci siamo sentiti l'altra volta già io ricordo bene 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 eh mi ricordo perfettamente voi con la salute avete la memoria quindi vi ricordate tutto questo tutto questo vi ricordate infatti io ho pensato che eravate un pochino preoccupati dell'altra volta di 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 si si calmi signora si calmi un pochino perché la sento agitata avrà anche una salivazione azzerata un po' di emozione probabilmente un po' di emozione di parlare con voi troppo buona si calmi respiri profondamente e ci racconti il prosieguo di quello che è successo va meglio va meglio benissimo benissimo come d'altra volta appena il chiamato che vi ho detto che mi potessero venire a trovare che appena giusto il telefono subito sono venuti dei belli giovani che però diciamo non sono ex comunitari perché parlavano proprio il dialetto scente o stretto stretto della della calabria ecco senza veramente sono venuti subito e dici amuntisa la televisione che voi ancora la pensione non l'avete finita dici dati nella nua che ve la finiamo noi hanno detto loro e certo e io subito 4 4 4 4 8 e sono andata nel cassetto alla tiratura e ci ho preso chi lo caccia era rimasto dalla pensione e ci ho consegnato tutto paro 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 i moni mi pare che erano 5 sia euro come il mio signor presentato diciamo d'ora aspettava nella cucina e non posso dirti nemmeno recuperare la telefonata perché fra l'altro ti chiamano col numero e dove la devo far chiamare comunque rimane il fatto meglio che l'abbiamo interrotto perché stava dicendo dove tiene la pensione e quant'altro e comunque avremo modo di avere altri contatti con questa nostra magnifica realtà calabrese che è fatta da tanta gente che avanti negli anni che nonostante avanti negli anni continua a fidarsi ecco del prossimo continua a stendere la mano al prossimo le cose che non mi tornano e che non mi funzionano proprio di questa calabria di queste intelligenze calabresi è la difficoltà di fare squadra la difficoltà di poter creare un team direbbero quelli che sanno parlare una task force cioè un'unione di forze che tendano all'attingimento di un obiettivo ci stanno veramente giovani di grande intelligenza di grande capacità di comprendere analizzare e trovare soluzioni a tante problematiche incluse quelle del lavoro però aspettano aspettano nel loro piccolo orticello che la loro piccola creatura possa essere riconosciuta lo dico per esempio per i produttori di applicazioni ci stanno tanti giovani calabresi che hanno seguito con i loro studi tutta l'evoluzione del mondo dell'informatica e che hanno prodotto delle applicazioni che hanno ricevuto riscontro e riconoscimento a livello nazionale ed internazionale e la capacità di poter immaginare questo non è equivalente alla loro voglia di poter costituire calabresità unita compatta intelligenza calabresi capaci di potersi manifestare al mondo intero questo è quanto di più deprimente ognuno produce la app la applicazione perché è questo il primo pensiero che ho formulato ma ci sono tante evoluzioni di tipo scientifico tecnologico che sono state conquistate dalle intelligenze calabresi e che rimangono proprietà del singolo non diventano patrimonio comune c'è questa sorta di maledizione che governa il nostro territorio le nostre belle speranze intellettuali a non creare a non creare sistema a non unirsi in queste forze di grande portata di grande potere potere intellettuale il potere all'intelletto fino a che non saremo capaci di restituire il potere all'intelletto il potere continuerà a rimanere nelle mani e nelle stupidità egoistiche nelle brame nelle bramosie dei soliti potenti dei soliti potentati quindi è veramente un accorato appello che rivolgo a tutte le intelligenze calabresi cercatevi scopritevi siate capaci di fare sistema di unirvi di creare le sinergie perché questo è il modo per creare lavoro tutti quanti parlano di progettazione europea tutti quanti sanno e siamo informati di quanto sia carente la nostra capacità progettuale da un punto di vista europeo proprio su quelli che sono i bandi e le possibilità che la Unione Europea offra a chi è dotato di intelletto scienza e coscienza eppure la progettazione europea rimane un fatto relegato a pochi eletti che in qualche modo sono riusciti a ritagliarsi un piccolo grande spazio in questo mare magnum dove non c'è veramente motivo di essere attenti al proprio orticello perché ci sarebbe tanto da progettare tanto da proporre tanto da offrire al mondo intero all'Unione Europea in generale ma al mondo intero in particolare perché le idee si esportano la bellezza delle idee vincenti la capacità di trovare una soluzione per risolvere i problemi del mondo intero perché la globalizzazione è questa non tanto che si possano avere sui social network 1500 2000 3000 amici quanto il fatto che tutti quanti siamo immersi nelle stesse problematiche e anche quelli che pensano di essere al di sopra di ogni problematica prima o poi dalle problematiche verranno inghiottiti ecco consegniamoci questa capacità davvero giovani calabresi giovani del mondo unitevi consorziatevi cercatevi curatevi apprezzatevi dedicatevi dolcezze intellettuali e materiali non si può fare a meno di una bella idea e di una magnifica carezza ma a questo punto del tempo è tiranno è tiranno tiranno è finito grazie Luca grazie a tutti